Buone stelle, da Radio Punto Zero, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Martedì 13 ottobre, una buona giornata a tutti e ben ritrovati nel nostro appuntamento con le stelle. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete. Il bel Nettuno in buon aspetto nel segno amico dei pesci vi fa oggi decisi e coscienziosi nello svolgere le vostre attività quotidiane. In sua compagnia anche il vostro astro guida Marte, che apre le porte a successi inaspettati. State imparando a cogliere le buone occasioni al volo. Toro. Urano e Plutone oggi, molto propizi per il segno, danno al via di un momento quasi magico per i sentimenti. Sempre con il sorriso vi presentate al mondo sorretti dal vostro astro prediletto Nettuno, capace di infondere una bella serenità su chi vi circonda. Gemelli. Sotto il tiro di Luna, Venere e Nettuno che vi sticciano tra di loro vi ritrovate in un ambiente che sentirete quasi dissonante. Rispetto a quanto vorreste, non riuscite a rendere al massimo. Le idee non vi mancano, ma dovete iniziare a ripensarle partendo da basi più solide. Cancro. A circondarvi oggi è un bel clima di collaborazione. Amici e colleghi vi sostengono e l'ambiente in cui vi trovate tende a rigenerarvi. La vostra formula vincente davanti a una routine ormai abitudinaria è data da un mix equilibrato di riflessione ed azione. Procedendo così non potete sbagliare. Leone. Un'energia inesauribile segna questa giornata. Riuscite ad organizzare ogni cosa nel dettaglio senza sentire troppo il peso sulle spalle. Seguendo i consigli del luminoso sole in bilancia, procedete sulla strada giusta. Quel che state facendo porterà presto i suoi frutti. Vergine. La luna a stacano vista nel segno vi predispone oggi nella maniera giusta per affrontare al meglio alcune incombenze più intrecciate. Per questo lasciate indietro sulla tabella di marcia. Un clima congeniale intorno a voi mette in risalto la vostra attitudine a volere le cose ben fatte in ogni ambito della vostra vita. Bilancia. Sensibilità un po' spenta in questo martedì. In coppia via mate, ma il rapporto sembra bloccato in una situazione di stand-by. Anche sul lavoro tutto procede bene, ma senza particolari entusiasmi. Precisi e ordinati, svolgete comunque tutto con grande efficienza. Scorpione. Quando il gioco si fa duro siete i primi ad entrare in campo a testa alta. Anche questa volta siete pronti a dimostrare tutta la vostra abilità. In fondo, in ogni campo, gli ostacoli ci possono essere, ma questa volta con Mercurio in congiunzione riuscirete ad anticipare le mosse di eventuali avversari. Sagittario. Una sveglia con il buon umore vi può già offrire qualche indizio sul trend della giornata. Marta e Focoso intrigono al segno vi spalleggia, promettendovi risultati produttivi e concreti. Sul piano lavorativo è la voglia di emergere e a spingervi sarete i primi ad agire. Capricorno. Con luna e venere in ottimo aspetto si apre per voi la stagione dei sentimenti. Sappiate assaporarne ogni attimo. Anche il lavoro procede a gonfie vele. Con Saturno al vostro fianco i tempi e i modi sono ben impiegati e ciò porterà un bel riscontro sul settore dei risultati. Acquario. Giornata intensa, ma non per questo così spossante. Tendete oggi a svolgere ogni cosa con semplicità e leggerezza, mantenendo però un efficiente ritmo di lavoro. Parte del merito è dell'amico Saturno, per voi positivo. Potrete così contare su una bella concentrazione e un'ottima prontezza di riflessi. Pesci. Una bella diplomazia vi caratterizza oggi. Donata vi da Plutone razionale, è meglio tenere un profilo basso e non lasciarvi coinvolgere imprese di posizioni troppo nette in ufficio. Cercate di tenervi alla larga da ogni situazione in cui l'asticella delle polemiche tenderà ad alzarsi oltre al limite. È tutto per il nostro oroscopo di oggi e anche in questo martedì vi auguriamo buona fortuna. Radio Punto Zero La miglior radio del Friuli Venezia Giulia Radio Punto Zero